Brutta partita per la palacanestro Trapani ieri al Palauriga contro l'Urania Milano, una gara che ha messo in evidenza i limiti dei Granata. Milano, letale dalla lunga distanza, ha praticamente condotto per tutto il match, con Trapani che per due volte ha impattato il pari, ma che poi non ha avuto la forza di capitalizzare l'inerzia a suo favore con un gioco efficace. Dure le parole di coach parente al termine del match. La vittoria è stata meritata, sono stati 40 minuti avanti, direi che non è funzionato niente, la cosa su cui sono molto dispiaciuto è stato l'approccio che non è cambiato durante la partita, purtroppo non abbiamo fatto niente di quello provato, niente, abbiamo giocato con la supponenza di chi poi dice tanto la vinco e tutte le volte ci siamo riappucinati e abbiamo rifatto gli stessi errori. Tutti, tutti. Non c'è stato uno che ha dato la scossa, uno che ha fatto quello che avevamo preparato. È inaccettabile prenderne 90 in casa, è completamente inaccettabile. Quindi direi che prima di parlare di cose tecniche, tattiche, di non aver seguito, di non aver ascoltato, credo che bisogna presentarsi in campo con un altro spirito, con un altro appiglio, con la voglia di giocare. Io oggi non ho visto una squadra che ha il piacere di giocare insieme, non ho visto una squadra che vuole mettere in pratica la domenica quello che facciamo durante la settimana, ma ho visto una squadra molto disunita e svogliata e questo è sicuramente colpa dell'allenatore che non è riuscito a trasmettere le giuste cose per arrivare alla partita in modo, non dico sereno, ma in modo presentabile perché oggi siamo stati veramente impresentabili, al di là del fatto delle percentuali che può capitare, ma sono molto dispiaciuto sotto il profilo dell'atteggiamento da parte di tutti.